Aspetta che qua c'ho una maglietta di sezione, seria, non per un'altra, perché le altre facevano tutto schifo, le altre avevano un significato particolare, esclosi il presente di un culo anche al boccato. C'è anche la modella per questa sera, il bello numero 4, Giuditta. Desi, la maglietta ci devi far vedere. No, no mettere la città in il paperino!